Post partita Milan 1 Frosinone 0, se sentite dei rumori sono cose che succedono Sono cose che succedono, voi concentrate a sentire quello che dico io spero cose abbastanza serie Detto questo, vabbè per quello che si riesce, Milan 1 Frosinone 0 Devo dire la verità, ossia che questo Milan è la squadra che è peggiore rispetto a quella della scorsa stagione Io non avrei mai immaginato che il Milan facesse più fatica addirittura della scorsa stagione E sembra invece così E' una squadra che non ha un allenatore molto bravo, perché Pioli scarso non è, ma non può essere un allenatore da Milan secondo me E tra l'altro è una squadra con troppi infortunati, quindi le responsabilità sono di tutti, anche della società Vabbè, avete anche visto quell'intervista di Maldini, però con Frosinone, a parte il Teo Hernandez difensore centrale manco allegri Ma io dico, ma metti qualcun altro, abile palle caro Stefano, di mettere ciao, cioè di mettere sì ciao Di mettere Simic, giovane della primavera, prova a mettere Simic piuttosto che Teo Hernandez su centrale Ma Teo Hernandez, ma dico io, è un giocatore che sa attaccare benissimo e tu lo metti in difesa Che forse è uno dei pochi punti deboli che ha Perché Teo Hernandez è molto più bravo a tagliare per via centrale, molto più bravo a spingere E tu lo metti centrale e dico, ma manco te sciglio Ma perché? Spiegami sta scelta Piuttosto metti Teo Hernandez a sinistra e Florenza al centro, ma prova a prendere le palle pioli per schierare Simic Se al negri schiera Uisen a 15 minuti dalla fine di Milan-Juve Tu vuoi anche avere le palline di mettere Simic centrale e titolare, no? Vabbè, tralasciando questo Partiamo dal fatto che al Milan oggi si è volentro i punti Va bene, però non è che in automatico se tu metti un giovane non vinci mai Anzi, cacchio, non lo so perché non l'ha messo Vabbè, tralasciando questo è stato un Milan che ha fatto poco Un Milan che ha prodotto poco, un Milan che si affidava molto al singolo Ed è l'ennesima costruzione che al Milan fa Vi ricordate quando il Milan serve continuamente Raffaeleao? Ecco, questo lo sta facendo con Chukweze Chukweze viene completamente servito sulla destra Toccando tanti palloni Comunque è stato veramente molto molto cercato E comunque 38 palloni in un tempo lo sono pochi per un'ala destra Chukweze sta provando a tirare Ha provato un tiro dalla distanza Finito fuori Ha provato a fare qualche dribbling Però affidarsi su Chukweze è follia Cioè, se non è follia Tu ti puoi anche affidare su Chukweze A me piace È veramente bravo Però non ti puoi Non puoi dipendere da un giocatore Il problema del Milan è che è una squadra che va troppo a cercare il singolo Invece non è così Contro il Frosinone Il Frosinone sta giocando bene Il Frosinone sta facendo una buona partita E a parte lo sbarione difensivo del primo gol Il Frosinone poteva anche segnare Penso a qualche lampo di Sule Che sta facendo una discreta partita Penso al tiro di Iono finito fuori di poco deviato Penso al gol divorato da Marvin Kuni Che non mi sembra tutto sto attaccante Non l'ho visto tante volte Ma non mi sembra un attaccante fortissimo Che dopo una palla persa da tua mano Mi fa lo scavetto a miglia Ma io capisco tutto Però a San Siro Tu prova a tirare una bomba Piuttosto finisce alta Però uno scavetto Ma quando mai? Che miglia l'altro due metri Vabbè Per il resto comunque Il Frosinone si sta difendendo Una squadra veramente forte Il Frosinone Devo essere sincero E dopo una palla persa di Burabian Il Milan Il Milan ha fatto partire un contropiede La palla è arrivata sulla destra C'è stato mi sembra un rimpallo E un tiro di Jovic al bolo Tra l'altro ha segnato Jovic il multiverso Domani nevica Non so cosa succederà domani Gol di Jovic Che si sblocca Nonostante io non lo reputo Un grande attaccante Tanto fumo Poco arrosto Christian Pulisic Però è stato un Milan Veramente che ha fatto fatica Un Milan 0-38 XG Non sono tantissime Un tiro in porta Con T2 del Frosinone Quindi Non ha Di certo brillato La squadra di Stefano Ilpioli Fino ad ora Partita Milan 3 Frosinone 1 Secondo tempo Allora Trasciate stare Mi vedo se sentite il rumore Ma è così Vittoria molto importante per il Milan Vittoria alla fine Fiera meritata Se così possiamo dirlo Nonostante le Comunque XG Non sono a stra favore del Milan Però L'importante è la vince Tre tiro in porta Tre gol per i rossoneri E dopo il primo gol Di Jovic Nel secondo tempo Il Milan Riparte con un atteggiamento positivo Con una voglia di fare E con un gol Molto importante Cristian Pulisic Su assist Meraviglioso Di Mike Mignan Un lancio Clamoroso Di Mignan Assurdo Un assist Per un portiere Mamma mia Un lancio Per Pulisic Controllo Perfetto Un controllo Da grande giocatore E poi Pulisic Di pallonetto Beh fatturati Dopo aver scartato Due o tre giocatore Frosinone E segna il gol Che vale Il 3 a 1 Scusate se sono Con il fiatone Ma sto facendo ruope E quindi È stato molto importante Quel gol di Pulisic Che poi Ha un po' Radrezzato la partita Ha radrezzato un po' La pratica Ecco Con un Frosinone Che ha avuto Dei problemi Abbastanza seri Infatti Difensiva nel secondo tempo Se il Frosinone Nel primo tempo Mi era piaciuto In secondo meno Munti rimporta Nel secondo tempo Contro il due del primo E Non è che il Frosinone Abbia fatto una partitaccia Però Non è stata All'altezza del Milan Che Cala anche il trio Con Ficaglio Tomori Sottoporta E poi vabbè Il Frosinone Tiene il gol Con il 3 a 1 Con Brescianì È entrato Gioia Per lui A San Siro Contro La sua ex squadra Per l'appunto È entrato anche Caglio Di Giorgi È caso Che dire Che fin qui Non sta impressionando Però Se andiamo Brescianì È un gol Molto importante Per lui Sicuramente E poi Per il resto Il Milan Doveva vincere Stasera Non c'erano scuse Piorin Piori out Oggi Il Milan Doveva vincere Tra l'altro A San Siro Poco entusiasmo Tanti posti vuoti Ho visto Un San Siro Un po' spento Stasera Non so Se avete avuto La mia impressione Un Milan Che sta faticando Veramente tanto Ma Questa vittoria Doverrà Essere obbligatoria Per i rossoneri Che per l'appunto Non hanno avuto Il maggior Possesso La palla Però L'importante Era Vincere Questa partita E per il resto Guardate Un po' Un 4-3-3 Per il Milan Nujovic Che è tornato al gol Mentre il Frosinone Molto più sbilanciato E nulla ragazzi Il Frosinone Dopo il 3-1 Di Francesco Ha detto Attacchiamo Ma Oggi Il Milan Era obbligato A portare i tre punti A casa Dopo la disfatta Contro il Borussia Dortmund Che probabilmente Li costerà La Champions League E nulla Fatemi sapere Cosa ne pensate Qui sotto Nei commenti Della partita E anche È entrato Francesco Camarda Per la sua Seconda Presenza Stagione Serie A La prossima partita Il Milan All'Atalanta Una trasferta Complicata Bergamo Quindi Anche Per la trasferta Bergamo Oggi era veramente Fondamentale Di vincere Detto questo Noi ci vediamo In prossimo video Ciao ragazzi